Buongiorno, sono Alberto Mariotti del sito internet catamarani.velemotore.it Siamo a bordo dell'XQSite Yacht X5 a vela e siamo con Tamas Amor che è il proprietario e diciamo l'ideatore di tutto questo progetto e lui ci racconterà la barca. Tutto il concetto del nostro X5 viene dall'esperienza di navigazione che mia moglie e io abbiamo fatto per circa 10 anni in giro per il mondo e con barche molto differenti tra di loro. Abbiamo navigato oltre 100.000 miglia attraverso Oceano Atlantico e Pacifico in tutte le situazioni meteo. Abbiamo quindi pensato a una barca che non fosse né per il charter né per le prestazioni ma con lo scopo di vivere a bordo in modo confortevole e per girare il mondo. Abbiamo quindi messo qui dentro nel progetto molte delle idee che noi abbiamo sperimentato in navigazione per esempio una cosa di cui tutti hanno bisogno in caso di problemi tecnici che capitano a tutti e quando si naviga in aree remote e avere a disposizione tutti i manuali e le istruzioni degli impianti che spesso nel momento del bisogno non si trovano. Ogni nostra barca viene quindi fornita con un iPad e una dock station wireless che ricarica l'iPad nel quale abbiamo mappato tutta l'imbarcazione e tutti i suoi impianti. Qui potete vedere facilmente tutta la mappa della barca, i suoi impianti, abbiamo caricato le istruzioni e ogni singolo manuale. L'applicazione permette anche di vedere il programma di manutenzione per gestire i controlli ai motori, i filtri dell'olio, il cambio dell'olio e tutti gli altri lavori da fare. Non solo quando arrivi in una zona con segnale wifi, questi dati vengono inviati ai nostri server in cantiere. Da lì noi possiamo tenere traccia dell'imbarcazione, di dove sta navigando ovunque nel mondo e dare assistenza. E questo non era mai stato fatto prima per barche di questa taglia. L'altra cosa che fa l'iPad è collegarsi al sistema di gestione degli impianti per controllare le batterie, il livello dei serbatoi che li vedete qui in alto e si può accendere e spegnere qualsiasi impianto, le luci, la musica tramite l'iPad. Non solo, si connette anche al sistema di navigazione Garmin per controllare la navigazione da qualsiasi posizione, sempre tramite il tuo iPad in mano. Abbiamo perfino connesso i due motori Yanmar da 80 cavalli con Morail in modo da poterli controllare da qui, anche dalla cabina. Scendiamo in quella armatoriale dove potete vedere subito la nostra firma. Una vetrata composta da quattro sezioni inclinate vicino al letto in modo da poter avere una bella vista sul panorama al risveglio la mattina. Tutta la barca ha un impianto di area condizionata molto potente, fatto per i tropici e in pochi minuti può raffreddare tutti gli ambienti. Ci sono prese internazionali ovunque, non c'è quindi bisogno dei vari adattatori, ci sono prese USB 12 volt. Vivere a bordo significa anche avere bisogno di più spazio per il guardaroba rispetto alle barche che fanno il charter. Abbiamo quindi creato un grande spazio guardaroba che sarà apprezzato dalle signore con armadi e cassetti e per questa taglia di barche è abbastanza unico. Il bagno è enorme, c'è un grande lavandino, il WC elettrico, un box doccia separato e lì dietro, ora ve lo apro, una laundry room per lavatrice e asciugatrice. Come potete vedere non c'è fibra di vetro a vista e tutto è rivestito con legni e tessuti di qualità. Ora siamo in una delle due cabine ospiti, nell'altro scafo, dove si ritrova il disegno della vetrata inclinata. Il concetto principale è che abbiamo spostato i banni verso l'interno dello scafo, così da avere nella parte esterna tanto vetro e molta luce naturale che entra e non si disperde poi perché, per esempio, per i bagni abbiamo usato paratie in acrilico che fanno filtrare la luce e questa porta qui, ad esempio, chiude sia il bagno che il box doccia. Anche qui abbiamo tanto spazio per lo storage e possiamo anche ricavare una televisione a scomparsa in questo spazio per poter essere guardata direttamente dal letto. Verso prua c'è una seconda cabina ospiti del tutto simile a quella già vista, con bagno grande, box doccia separato e luce che filtra. Abbiamo extra storage ovunque possibile, tipo in ogni gradino e in ogni seduta dell'imbarcazione. Siccome le nostre imbarcazioni sono costruite per vivere a bordo, sono tutte full optional e dotate di generatore, installatore, aria condizionata, pannelli solari, digital switching, winch elettrici, gruette elettriche per il tender. La TV è scomparsa in questo mobile. Tutto ciò che abbiamo provato nelle nostre navigazioni è finito in questa imbarcazione. Qui abbiamo due cassetti freezer, in uno c'è l'ice maker, qui c'è il frigorifero e ne possiamo avere un secondo optional in questa zona, ma anche in pozzetto ne abbiamo un altro, che ora vi mostro, così quando si sta fuori non si deve entrare in cucina per prendere da bere. In pozzetto abbiamo una bella dinette con divani e tavolo, sul quale abbiamo disegnato in rilievo la mappa del mondo. Dall'altro lato c'è un'area lounge ombreggiata e protetta dal sole e volendo tutto il cockpit può essere chiuso per i giorni di pioggia. Come potete vedere qui si è in diretta comunicazione con lo skipper. Questa è una barca per famiglie e non vogliamo che, per esempio, il marito sia da qualche parte a timonare, lontano, isolato da moglie e figli. La zattera è integrata nel sedile ed è di facile accesso. E se ora venite a poppa, la zona prendisole è per tre persone e lo schienale può essere reclinato a vari angoli ed è una caratteristica utile anche per leggere. Sotto, come sempre, c'è molto spazio per lo storage. Qui si alza, vedete. E abbiamo anche un pack optional dedicato ai sub, dove possiamo mettere un compressore e quattro bombole per l'aria. Qui le gruette sono elettriche, c'è il barbecue. E un'altra bella caratteristica è che quando si risale da un bel bagno, qui si trova una vera e propria doccia con acqua calda e fredda. La zona di guida è pensata affinché una sola persona possa governare la barca. È tutto molto semplice e per un cut di 55 piedi è sorprendente. Tutte le drizze e le manovre, nessuna esclusa, perfino i terzaroli della randa, arrivano a questi winch e non devi lasciare quest'area per completare qualsiasi tipo di manovra. Le cime arrivano a questi due winch elettrici che hanno pulsanti a terra per avere le mani libere e tutte le cime corrono nascoste. Le code vengono poi stivate in questo spazio a terra e tutto il ponte è molto pulito e non ci sono, vedete, non ci sono cime in giro che disturbano. Tutte le nostre barche hanno il distallatore standard che viene messo in questo gavone. Eccolo qui. La cosa interessante è che non devi accendere il generatore per usarlo perché abbiamo un kilowatt di pannelli solari sistemati qua sulla tuga. Eccoli qui. E quando piove puoi raccogliere l'acqua piovana grazie a questi due canali, ce n'è uno per lato, che portano l'acqua direttamente ai serbatoi. Tutte le vele sono laminate North Sail, abbiamo due vele di prua, entrambe su avvolgitori e anche qui le cime sono a scomparsa, vedete, fino ai due winch che abbiamo visto prima. Ovviamente sono di facile accesso in caso di sostituzione o lavori. Qui c'è un solido corrimano che corre lungo tutta la barca, una caratteristica rara perfino sulle barca a vele ed è utile quando si naviga con cattivo tempo. Qui c'è una scaletta laterale di risalita molto pratica quando si ormeggia all'inglese lungo il molo. Ecco, vedete, si abbassa e si rialza molto facilmente. Grazie. 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 Grazie.